Chieti è il primo comune a lavorare sulla trasparenza negli appalti pubblici e infatti c'è stato un accordo con le sigle sindacali che porterà proprio in questa direzione. Esattamente, abbiamo recepito l'altro ieri in giunta il protocollo che abbiamo sottoscritto con le organizzazioni sindacali proprio in materia di trasparenza negli appalti pubblici. Quindi una serie di prescrizioni condivise con le organizzazioni sindacali per garantire il rispetto della legalità e soprattutto delle condizioni di lavoro. Gli effetti di questo patto si vedranno a breve quando inizieranno già i primi lavori che sono stati messi in cantiere per le opere pubbliche? Esattamente, tutte le procedure di appalto che dovranno essere avviate dal comune di Chieti e fortunatamente sono molte grazie al lavoro di programmazione di questo anno, dovranno rispettare queste prescrizioni che integrano il codice degli appalti pubblici. Tante saranno le ricodute positive a cascata, tra l'altro anche una sorta di lotta per il precariato possiamo dirlo? Esattamente, tra le finalità principali di questo protocollo è quello di garantire attraverso un controllo costante della stazione appaltante anche il rispetto della contrattazione collettiva nazionale di categoria e evitare che i fenomeni di subappalto possano nascondere in realtà quel precariato che abbiamo conosciuto in quest'ultimo ventennio.